l'ultima puntata di stasera tutto è possibile capitanata da stefano de martino bello bravo simpatico veramente un ottimo ottimo conduttore in uno dei programmi più divertenti che sono presenti in questo momento in televisione allora l'ultima puntata di tutto è possibile è capitato con la festa di halloween questa sera 31 di ottobre ma parliamo del bacio sulla bocca tra stefano de martino e mara venier o meglio al fantastico imitatore del programma che è vincenzo de lucia fantastico allora vincenzo de lucia questa sera nelle veste di mara venier mangia del salame insomma zia mara di qua zia mara di là a un certo punto chiede stefano dolcetto o scherzetto stefano chiede dolcetto e allora vai col bacio sulle labbra risate a più non posso ma a sorpresa stefano dopo aver fatto finta di schifarsi un po per l'avvenuto si lancia verso de lucia e lo la ribacia un'altra volta insomma il momento bacio anche a stasera tutto è possibile è successo 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 successo